bello ragazzi benvenuti in questo nuovo video della serie principale di minecraft oggi siamo con un ospite speciale con manuele che è sempre con l'account di massimo bella oggi andremo a costruire una statua su minecraft che è di pietra ci siamo messo un morto per farla andiamo subito a costruirla ok allora manuele inizia con la base allora c'è già i blocchi è un ospite di pietra che poi ci facciamo la torcia sopra allora manuele inizia ancora la lana per fare la torcia ok ok poi inizia a fare la base io lascio gli slab ok attenzio quale questa cosa stramba questa qua usato ok raga abbiamo cercato ok sta facendo allora manuele inizia io vado qua poi io metto gli slab e ricopro dentro per farci le altre parti allora tu vuoi la base che faccio il gesto io ok 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 se vuoi posso già acqua qua tanto di fare così sì ok ok dimmi eh appunto lo posso dare pure io se sbagli ok ok non è facilissimo fare la base vai ok 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 vai 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 la raccolgo io quello che ho lasciato ok vai ok qua ti tolgo la torcia ok l'ho messo qua questa qua ragazzi è la base allora la base l'ho messa qua poi devo fare pure così ok non mi dico che non ci bastano ragazzi non ci bastano eh appunto non ci bastano sì ho preso gli slab da casa di massimo facciano un botto vai ok ok ragazzi ho un po' di tempo io intanto allora fra devo fare una cosa per forza allora io raga non voglio fare una cioè voglio fare una cosa in modo che io salgo e vedo ma non è mentre costruisce raga perché vuole fare anche la torcia ti butto il piccone e sotto la me l'ho buttato ma non è sotto di me girati 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 ti l'ho buttato è praticamente pieno ti va bene sì ok ok raga ho un bordello di sky no guardiamo così perché c'è l'acqua quindi se cadiamo non dovremmo morire chiaramente raga io arrivo a 30 blocchi e mi fermo ok ok raga allora raga calcolate che dovrebbe essere un aseto con le gambe cioè nel senso che c'è una destra delle gambe e sempre con l'account di massimo raga ok ok qua raga abbiamo sbagliato? oh no ok 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 raga questa qua pensate che è la gamba che adesso non lo deve ancora fare che ok e praticamente deve essere in sto modo ho capito ok 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 allora raga mi ricomando voi iscrivetevi al canale il link in descrizione raga per tutti i social e anche nel canale di mano se volete dare un'occhiata alla tastiera raga sempre il link in descrizione donation link in descrizione allora raga non so se ti vede ma Manuele ha fatto la gamba io non voglio sporgermi che faccio un po' altro che ok ok Manuele raga sta salendo la statua mi sta piacendo io ovviamente ho fatto il slab e l'ho aiutato all'inizio adesso raga questi qua per chi ancora non si è capito raga ho voluto vedere solo adesso adesso raga dobbiamo scendere perché voglio far vedere la gamba dietro poi risaliamo una volta finita la statua se riesco se no non salgo proprio che è meglio ok qua raga l'acqua poi me la riprendo ok ok sta po' allora qua tolgo tutto qua ok allora raga e non ho neanche un altro piccone di riserva no va bene non ti posso caccia niente ok 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 e questo qua è la gamba ok ragazzi allora ci mancava un altro blocco scende raga l'andesita è levigata guarda 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 che bellezza eh raga per non perdere tempo la scelta del coferro te la do tutta raga vg no ho guardato l'enderman ho guardato l'enderman ci sono i mostri mi sta pushando l'enderman non lo so c'è un creeper dov'è? non è un creeper è levato i creeper sono i peggiori inferno non lo so ci sono i creeper andiamo a dormire che dici? ok ragazzi siamo qui con manu ok ok ragazzi c'è uno scheletro che ci sta pushando manuele sta cercando di fare la stab ma mi ha fatto una ricoglio ombro UUUUUUUUUU ragazzi questo qua sono io con l'armatura dello scheletro allora raga le braccia le sta facendo manuele uno l'ho già fatto ok direi di fare l'altro lungo che dopo raga devi fare la torcia la torcia è quella su minecraft ovviamente ma raga io mi intanto mi sono preso dei letti a casa c'è da stare che qua ho di tutto e di più raga che poi ho iniziato l'inventario ok raga adesso ma ora deve iniziare la torcia si è finissima comunque raga mi raccomando raga ando a me veramente tu ok ci sei? ok la torcia si fai tu raga ha detto che lui è l'idea raga da lui ok l'importante è questo ok raga allora la legna si la legna la lana che dovuto io usare ah non ti serve la lana usare la legna? no no ah dopo ok raga dobbiamo salire da soli ok ragazzi se andiamo di sopra da qua che ci ho messo l'acqua io tu mi dici cosa devi farla? si non è tanto una torcia forse deve andare allungare perchè ancora devo allungare ah ok tipo fai metà una parte e metà un'altra ok ho capito in che senso volevo ok 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 raga ma da una parte metò un'altra che è proprio figo ancora più alta no vabbè vabbè sono più troppo alta ok ok ah da una parte lascio così ok comunque raga buttare di qua ok raga io ho ancora più sopra per vedere come si vede ok adesso ti serve raga io non ho l'idea ah 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 l'ho dato io prima raga che l'ho data beh ok la bianca o si? no si ok per fare solo la sfumatura ok 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 raga la torcia ah si raga la parzotta è sempre bianca secondo me raga tipo la parzotta è bianca perchè raga io in camera devo sapere che ho la torcia di Minecraft però vera e reale si può toccare insomma di plastica che raga lo pesa la stanza erente finalmente raga sta prendendo lo spunto da la ecco vorrebbe uscire così ok e attore tipo la torcia mi ha dato sta giganterni ma che mi butti no io sono troppo forte ok ah ho fatto la sfumatura da l'altra parte mentre uno che sta portando l'armatura ci si chiama quella che è in camera mia dai vieni qua ti do pure uno uri dello schetto raga l'arma dai raga metti l'armatura raga niente raga questo qua è il video spero che il video vi sia piaciuto se fosse sempre così raga mi raccomando siete un bel like iscrivetevi al canale raga in descrizione trovate il link del canale di mano niente raga ciao ciao ok raga gli è venuto un'idea all'ultima mano di fare il braccio più lungo raga non stanzo